Tornano a Rovigo i giovedì in centro. Ricordiamo che partiamo questo giovedì, ci sarà un secondo giovedì in cui gli eventi saranno comunque molto presenti in città e il terzo e il quarto giovedì è dedicato ad iniziative specifiche per il mondo del commercio. Quest'anno il gruppo teatrale Il Mosaico organizza i giovedì in centro a Rovigo. Sì, animazione, spettacoli per bambini, ci saranno tre location, naturalmente in Piazza Vittorio ci saranno le cover con i tributi dei cantanti più famosi, in Piazza Garibaldi invece ci sarà il momento per ballare con gli anni 80-90 e invece Piazza Merlin sarà dedicata ai bambini con gonfiabili dolciumi, spettacoli, circensi, magia e tutto quello che riguarda la famiglia. Lungo poi le vie del centro storico, anche il Corso del Popolo e anche tutte le altre vie ci saranno gli artisti di strada per animare questi giovedì caldi di luglio.